attenzione, vediamo se siamo ancora fortunati o no niente luce, no luce e come fa Fius? 1, 2, 1 niente luce, solo Stefano ha trovato doppio walk-up vediamo un po' 0 lavagne, 0 lavagne, 0 lavagne per Gesù non ce l'avevo capito partita vediamo niente luce, niente luce, 0 lavagne grande Sirio, vieni in disco, capiamo che pacchetti troviamo i trochi, mega Sirio nel bicchiere luce, 0 luce aspetta un attimo luce blu luce blu si si lo so mettete innamorate andiamo niente luce dai luce blu luce blu luce blu Luce blu! Luce blu! Nicola! Che figlia di merda! Faffa culo! Non ho mai vista la luce lì! Che cazzo di luce! Fai in fargento! Io voglio! È solo! Faffa culo! Vediamo bene lo stesso 2500 tipa points L'ultimo pacchetto sono le 14.56 Dopodiché ragazzi ci salutiamo Volevo cliccarlo assieme quindi 3, 2, 1 Via via! Grazie Mi nasce anche la luce qua Mi nasce anche la luce qua Sì! 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 Una gioia! Un iscritto al più caro! Sì! Sì! incredibile finalmente ma fa culo totti totti ma fa culo non c'è più la voce non ci credo incredibile totti totti il 38 facciamo il video io lo vedo totti dei brui ragazzi non lo so però quant'uno ce l'ho venita male non lo so 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 vedo non lo so non lo so non lo so ho